La combinazione di oggi è un po' lunghetta, ma provate a trovare almeno le prime tre mosse. Vi do 10 secondi. Allora, notiamo che questo alfiere è veramente forte, sta puntando contro il re, e quindi la mossa giusta è cavallo per G6. Si distrugge la struttura per l'onere davanti al re. Alfiere per G6, torre per G6, sacrificio di torre, torre per G6, alfiere per F5, inchiodata la torre e attacco il doppio, si attacca anche la regina. Cavallo per F4, il neo contraattacca attaccando la regina bianca, e adesso torre per G6. Qual è l'idea? Che su cavallo per H3 segue torre per G6, scacco, e invece su donna per G6 segue F6, ma su donna 1, scacco, segue torre G1, scacco.